Il primo pittore espressionista della storia moderna è inegabilmente lui, Vincent Van Gogh, come lo chiamavano in francese, Vincent Van Gogh, come nacque nel suo mondo olandese, o Vincent Van Gogh, come era la sua iniziale carriera quando era ancora un ragazzo di buona famiglia che con il fratello lavorava per Goupil, il grande mercante d'arte, con galleria a Parigi, a Londra e Amsterdam. Va a Londra e si mette a studiare invece da predicatore. Parla perfettamente l'olandese, il francese e l'inglese. Uomo colto, si sente obbligato eticamente e moralmente all'impegno sociale. Andrà a predicare nelle miniere belghe dove incontra quei poveri diavoli che mangiano di notte solo una patata. Poi se ne va a Parigi, scopre, come hanno già fatto altri, i colori piatti e pieni delle stampe giapponesi e i contrasti cromatici forti. Va oltre l'impressionismo e pone le basi di ciò che diventerà un giorno l'espressionismo. I pittori che a me piacciono dipingevano velocemente con un gesto litto ad ogni pennellata. È in qualche modo il prototipo dell'artista maledetto moderno, il primo della nostra era attuale, come in poesia lo fu Rabu o come lo fu Verlaine dall'altro lato. Senza di lui la sensibilità moderna sarebbe stata diversa. Eppure ha venduto un solo quadro in vita sua alla sorella di un suo amico un anno prima di morire. Oggi i suoi dipinti valgono centinaia di milioni. Ed è questo il motivo per il quale un altro pittore espressionista d'oggi, Julian Schnabel, si interessa a lui. Julian Schnabel è uno dei pittori di maggior successo a New York oggi. E da regista autore racconta la sua versione della storia di Van Gogh. È personale, è poetica ed è molto profonda. Hanno cose che curiosamente li accomunano. Tutti usano una materia che si muove drammaticamente. Van Gogh a fonti gialli, Julian Schnabel a fonti gialli. Van Gogh a fonti blu, Julian Schnabel a fonti blu. Tutto in movimento, tutto materico, tutto incredibilmente viscerale. Perché devi dipingere sempre la natura? Mi sento perso se non ho qualcosa da osservare. Tenendo conto del fatto che Van Gogh ha dipinto solo per dieci anni, gli ultimi dieci anni di questa sua brevissima vita, il film ne racconta il pezzo finale. Quando decide di partire da Parigi con Gauguin, va ad Arles. A Arles si separa da Gauguin. Avviene il fatto drammatico che tutti conoscono del taglio dell'orecchio. Finisce in asilo psichiatrico, probabilmente perché usava quel giallo cromo che era stato inventato 80 anni prima, ma che era un autentico veleno. Questa pittura lui la applicava spalmandosela nelle mani e usando poi il pennello per quei tratti molto precisi dove la similitudine fra il tratto di pena dei disegni e il tratto pittorico del quadro diventa addirittura commovente. Il film fa capire molto bene il modo di dipingere, la nascita del gusto dei colori guardando la natura e trovando Dio nella natura e infine il dramma della condizione umana. Torna vicino a Parigi con il fratello, va a stare in un luogo piccolino della periferia a pochi chilometri dalla capitale, ma la fine vera ve la racconta Julian Schnabel con una sua interpretazione particolare, motivo in più per andarlo a vedere.